Il mercato in entrata L'obiettivo è creare una rosa competitiva per risalire tra i professionisti Il neo direttore sportivo del Forlì Oberdan Melini ha già in mano le trattative di mercato che vedono i possibili rinnovi di Ponsat, Vesi, Cappellupo e Tonelli Saranno poi lacciati i contatti con Cesena e Juventus, due società ricche di giovani promettenti per la Serie D Il diktat però è rendere il Forlì dei Forlivesi, come Fabio Dallara, altro nome caldo Devi necessariamente trovare il giusto mix, è chiaro che non nascondiamocelo Questo discorso a Sant'Arcangelo sarebbe stato, cioè Forlì è Forlì Pur facendo un anno di transizione la rosa del Forlì e i risultati che si augura il Forlì raggiunga Non possono essere risultati che consentano al Forlì di stazionare nella parte destra della classifica Devi necessariamente stare nella parte sinistra, auguriamoci nella migliore posizione possibile Chiaro, devi fare una certa pianificazione tenendo conto da un lato che chiaramente devi cercare di portare i giocatori Che possano anche essere utili la stagione successiva ma che tenga anche conto un po' della... Che devono avere anche una certa consistenza tecnica per cercare di avere il giusto mix Passiamo ora al basket sul nostro portale tr24.it La Virtus Segafredo Bologna espugna 72-66 il difficilissimo campo dell'Alma Trieste e ottiene la promozione in Serie A1 I Felsinei chiudono a proprio favore le contese in gara 3 e questa sera dalle ore 21 in Piazza Maggiore Scatterà la festa per il ritorno in massima serie con tutti i tifosi bianconeri Saranno presenti i staff, dirigenti e tutto il roster al completo che ha compiuto la storica cavalcata Invece in casa Fortitudo in vista del prossimo campionato di Serie A2 Sono calde diverse trattative di mercato per fornire un roster competitivo a coach Bonicciolli A grandissimi passi la Fortitudo va già verso il completamento del roster della prossima stagione A soli dieci giorni dall'uscita di scena in gara 5 di semifinale playoff infatti il club bianco-blu è ormai pronto ad annunciare uno dopo l'altro I nominativi dei quattro nuovi giocatori che vestiranno nella prossima stagione la maglia della Fortitudo Assieme ai confermati Mancinelli, Italiano, Cinciarini, Gandini, Ruzier, Campogrande e con buone probabilità anche Alex Legion Dopo l'annuncio di McKamey, play ex Austin Spurs, dal forte impatto fisico e consigliato a coach Bonicciolli direttamente da Ettore Messina Le prossime ore saranno quelle decisive e buone per l'ufficializzazione di Alessandro Ramici Ale strose di talento proveniente da Mantua per poi proseguire con Andrea Ancelotti, centro titolare di Treviso nell'ultimo biennio Per completare il roster a quel punto mancherà solo un altro tassello che potrebbe essere Arthur Stroutins Esterno letto nel maliformazione italiana classe 1998 di grande prospettiva Che quest'anno in Serie A ha giocato 12 minuti di media segnando tre punti a partita Il suo arrivo rientrerebbe nello scambio che porterà a Reggio Emilia Leonardo Candi L'ufficializzazione ci sarà non appena il 19 playmaker bolognese Rientrerà dal raduno di Roseto della Nazionale Under 20 Passiamo ora ai motori Lo spettacolo della Superbike ha infiammato il Misano World Circuit Marco Simoncelli Che ha tagliato la competizione numero 50 della propria storia Un vero bagno di folla per il round Riviera di Rimini Il weekend motoristico nel tempio del Misano World Circuit Intitolato al compianto Marco Simoncelli Ha fatto registrare numeri da record A Misano Adriatico per ammirare Marco Melandri e compagni Sono accorsi nell'arco dei tre giorni 68.154 spettatori 2.400 in più rispetto allo scorso anno Tale dato si attesta al terzo posto nella classifica stagionale di presenze sulle tribune Dietro solo al GP thailandese al Chang International Circuit al vertice Con oltre 80.000 persone seguito da Imola a quota 75.115 Le 100 vittorie italiane nella storia della Superbike Sono state raggiunte grazie al caporavoro di Marco Melandri in gara 2 Festeggiato poi dai tifosi nel paddock In cui poter trovare ristoro in uno dei tanti punti delle case motoristiche Grazie a questi importantissimi risultati è stato ufficializzato l'accordo tra Santa Monica SPA e Dorna Per il proseguimento fino al 2020 del matrimonio tra Superbike e Round Riviera di Rimini Un ottimo modo per far spegnere le 45 candeline di attività allo storico circuito romagnolo Torniamo ora sul nostro portale TR24.it con una notizia di softball La Poderi dal Nespoli Forlì torna con un pareggio dal doppio incontro del weekend Che l'ha vista impegnata in casa delle Thunders di Castelfranco Veneto In gara 1 le ragazze romagnole guidate da coach Brusa hanno chiuso il match per manifesta superiorità al sesto inning per 10 a 1 In gara 2 invece le padroni di casa hanno ribaltato la situazione in appena 4 inning con un pesante 11-0 In classifica le forlivesi rimangono in quarta posizione al termine della terza giornata di ritorno Passiamo ora a visionare i principali quotidiani locali sportivi Incominciamo dal Corriere di Romagna che in anteprima dà spazio al mercato allenatori Bardi e Angelini a volte ritornano Forlì ecco il tecnico Sampierano a Sant'Arcangelo tutto pronto per il secondo mandato dell'ex mister del Cesena Primavera Passiamo ora al calcio Serie B Corsa ed utilità nell'attacco del nuovo Cesena Sempre in spalla in Lega Pro Ravenna avanti con Antonioli Ma i leader salutano per quanto riguarda invece il basket di A2 Ora sì ma sciatli per altri due anni 1 euro E il nuovo General Manager Mentre in apertura ampio spazio al motociclismo con Superbike Le pagelle di Misano Melandri si merita un 10 e Lode Andiamo avanti ora con il resto del Carlino Sempre l'inserto sportivo Anteprima lasciata al caso Milan Qua la mano La D del Milan Fassone manda messaggi distensivi a Donnarumma Il Milan sarebbe pronto a raccogliere a braccia aperte Siamo disponibili a riprendere da subito la trattativa Ma intanto il club rosso-nero blocca Perin In spalla a calcio mercato Dani Alvesch Gaff e saluti Fatta con i siti Sandro Assalto del Chelsea Per quanto riguarda la Formula 1 Seb ci riprova anche a Baku Nel 2018 tornano i GP storici Mentre nel taglio alto L'inchiesta Ecco chi punta Sull'impianti di proprietà ultimo stadio La Serie A tra progetti e ritardi Ora andiamo ad ascoltare l'opinione di Luciano Poggi Ci siamo spesso soffermati sulla validità del settore giovanile del Cesena Calcio Beh intanto per un dato fondamentale Che è quello che vedeva almeno nel corso di questo campionato Il settore giovanile del Cesena Calcio Al primo posto per quel che riguarda i settori giovanili delle squadre di Serie B Ottavo in Italia Comprese le squadre di Serie A Un bel risultato davvero Ma alla fine di una stagione I risultati che contano Sono quelli delle finali o semifinali Che si disputano nelle varie categorie Oggi il Cesena arriva al primo grande appuntamento A Ravenna Si gioca infatti Cesena-Roma L'Under 16 Quella affidata a Cancelli Che poi nel prossimo campionato Dovrebbe prendere in consegna Una squadra probabilmente di livello superiore Nel senso è ovvio di età Beh gioca contro la Roma La semifinale e nel caso in cui fosse finale Si troverebbe poi a disputarla All'Orge Stadium Dino Manuzzi E questo sarebbe un grande risultato Per il settore giovanile della Cesena Ma soprattutto anche Una grande soddisfazione Per i tanti tifosi bianconeri Con questo è tutto Termina qui questa edizione Di TR24 Sport Ricordo che per ulteriori approfondimenti È disponibile il nostro portale TR24.it Grazie per l'attenzione Buon proseguimento di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti